giochi con la principessa le pentole sono pronte e adesso cosa possiamo fare io non ho idea oggi tolo tu proponimi qualcosa principessa perché non cuciniamo una bella torta con cioccolato buona certo quella è buona però non possiamo dare da mangiare per pranzo una torta oh ciao siamo qua con tolo che dobbiamo decidere cosa cucinare per i nostri ospiti abbiamo fatto la spesa ma dobbiamo avere un'idea allora faremo un bel pranzetto usiamo queste bellissime verdure che ho comprato oh che buone che sono guardate una bella carota una patata pomodoro e ora manca solo una cosa la zucchina beh buono ma mangiamo solo verdura questo era il contorno ora prendiamo due bei polli e ce li facciamo al forno sono buonissimi ti faccio vedere li mettiamo qui poi li prepariamo con un po di sale così aggiungiamo un po di pepe e ora li possiamo mettere nel forno guarda uno e due chiudiamo e accendiamo pronti e li facciamo cucinare per prima cosa mettiamo dell'acqua qua ecco adesso tagliamo le verdure ecco 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 pomodoro ecco patata cipolla perfetto e ora dobbiamo far bollire l'acqua e quindi bisogna accendere il fuoco mi raccomando attenzione la mamma quando cucina la zuppa mette sempre del sale ecco eccolo qui un pizzico e anche un po di pepe principessa ma non potremmo aggiungerci qualche altra verdura hai ragione potremmo cercare nel frigorifero se c'è qualche verdura che può rendere la nostra zuppa più saporita ecco qua vediamo cavolo cappuccio questo è buonissimo per le zuppe e ora prepariamo tutto per il nostro bel pranzo apparecchiamo un piatto per te qui mettiamo la verdura i piatti rosa mettiamo il pollo e in questo giallo la frutta ecco siete pronti e ora mettiamo le posate quella azzurra quella rosa l'altra rosa e questa gialla io ho fame ho fame mangiamo guarda qui li ho già preparati guarda pronta sono buonissimi uno e due ora la verdura ecco la nostra macedonia ecco sono arrivati è davvero buonissima una delle migliori zuppe che io abbia mai mangiato ho davvero pulito il piatto guardate ma voi ne volete ancora un po oh io si quasi quasi ne mangerei un altro pochetto e certo adesso te ne do un po ecco golosone ciao vi è piaciuta la puntata potete seguirci sui nostri canali dove potrete trovare tanti giochi divertenti storie e disegni e canzoni e se volete ci trovate cliccando qui ci vediamo presto amici qui ci vediamo presto amici